Non ci sono pediatri di base disponibili sino a maggio a Ostuni, 600 bambini sono senza assistenza sanitaria nonostante i tentativi dell'Asia. Anche la diocesi di Brindisi e Ostuni si unisce all'appello di Papa Francesco per dedicare questa giornata di digiuno e preghiera con l'intenzione di pace in Ucraina. Crisi del polo energetico a Brindisi, il sindaco ha convocato sindacati, Confindustria, prossimo passo chiedere un tavolo al mese e confrontarsi con Enel. Lo avete ascoltato, preoccupa la situazione sanitaria a Ostuni, lì dove circa una platea di 600 bambini sarebbe senza pediatri. Gianmarco Di Napoli. La situazione è paradossale e preoccupante, mentre ancora la pandemia è in atto e i più piccoli sono i soggetti più sensibili al contagio, per 600 di loro fino a maggio non sarà disponibile il pediatra di base. Accade a Ostuni, dove dal 31 gennaio scorso, giorno in cui uno dei quattro pediatri dell'ASL ha concluso il suo rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, i suoi piccoli pazienti sono rimasti senza assistenza medica. Inutile a ogni tentativo dell'ASL di coprire con un incarico provvisorio di circa tre mesi il vuoto creatosi. Ben tre pediatri hanno rifiutato l'incarico temporaneo, nonostante fossero stati messi a disposizione ambulatori gratuiti all'interno delle strutture della stessa azienda sanitaria. Una soluzione potrebbe essere quella di avanzare alla Regione Puglia una richiesta di deroga per aumentare i massimali di pazienti a carico degli altri tre pediatri in servizio, in modo da suddividere i 600 bambini momentaneamente tra loro, in attesa dell'arrivo della quarta unità. Una procedura comunque non semplice e che creerebbe un precedente. Intanto i problemi sono tangibili. Nei giorni scorsi un bambino di Ostuni è stato accompagnato all'ospedale di Francavilla in assenza del proprio pediatra e ci sarebbero altri minori, chi con febbre, chi con sintomi riconducibili al Covid, senza la possibilità per le famiglie di interloquire con un pediatra. Per non parlare di questioni di routine come la certificazione per i rientri a scuola o per le attività extradidattiche, ma anche per la prescrizione di esami diagnostici. Decine di mail di protesta sono giunte all'asle di Brindisi, ma per il momento la soluzione non è stata trovata. Anche da Brindisi un messaggio di pace con una preghiera per l'Ucraina, ma anche un digiuno. Una giornata di digiuno, preghiera e astinenza per la pace. Il giorno delle ceneri, che dà il via al periodo di quaresima per la Chiesa Cattolica, allarga il suo profondo significato spirituale in questa particolare fase storica, con un pensiero alla guerra in Ucraina, a dare il suo messaggio all'Arcivescovo Domenico Caliandro, che chiede la conversione e la pace in questa fase così complessa e incerta, con l'invito alla fede, alla preghiera ed al digiuno, come chiesto da Papa Francesco, per l'inizio di questa fase che precede la Pasqua di speranza e di salvezza. Il Papa ha dato a questa giornata ancora una tensione più forte, un'intenzione a pregare per la pace. Dinanzi a questo sconvolgimento, a questa violenza in atto, questo atto di barbarie immensa, incalcolabili, che uccide un sacco di persone, innocenti, il Papa chiede che le persone prendono coscienza, offrendo qualche cosa di se stessi, che cosa? La preghiera e il digiuno. Il digiuno tocca la pancia, tocca un pochettino la vita di ciascuno di noi, quasi a chiedere al Signore un intervento su quelle persone che hanno in mano le sorti dei altri, dei popoli, delle nazioni. Allora, ecco, oggi veramente siamo invitati da Papa Francesco a pregare per la pace, a offrire un po' del nostro tempo nella preghiera e anche il digiuno. E poi a questo si associa ciò che i vescovi italiani stanno dicendo di mettersi insieme, di raccogliere, perché possiamo far sentire la nostra vicinanza e la nostra partecipazione ai nostri fratelli dell'Ucraina. E intanto viene inaugurata una nuova mensa cittadina per le famiglie bisognose in un momento di nuove povertà. Davide Cucinelli. Solidarietà e assistenza alle persone in difficoltà con una nuova sede della mensa cittadina per povere e bisognosi, che passa da Via Conserva in centro a Brindisi al quartiere Santa Chiara, presso l'ex seminario Benedetto XVI. Una struttura gestita dalle 16 parrocchie Brindisine, che a turnazione effettueranno il servizio mensa di volontariato. Un'iniziativa che rientra in un momento storico particolare, tra eventi di guerra e la fase pandemica, che ha creato e sta creando nuove povertà. Sicuramente la pandemia ci ha messo a dura prova, come Caritas parrocchiale ci siamo subito resi conto che i numeri raddoppiavano di giorno in giorno. Poi la situazione è rientrata un poco, ma sono rimasti comunque tanti strassici di povertà, quindi sono comunque aumentati i poveri. Questa decisione nasce intanto dall'esigenza di dare alla mensa un luogo spazioso, ampio come questi ambienti, dare la possibilità anche a più persone nel futuro di poter usufruire. Nasce anche dal cammino sinodale che sta vivendo la chiesa italiana e mondiale in questo periodo, cioè l'incontro di tutte le comunità parrocchiali che nella corresponsabilità cercheranno, con una turnazione di tre giorni a parrocchia, di gestire il tutto, dall'apertura alla chiusura della mensa. Nel momento in cui si parla di guerra, la pace non è solo una declinazione di parole, di valori, ma è una cosa completa. Si costruisce attraverso questi gesti, cioè l'aiuto a chi è più in difficoltà. Questa è un'esperienza quindi che continua nella nostra città e penso che qui nel seminario possa continuare ancora in maniera più importante, seguendo sempre più persone. A Mesagne è tutto pronto per l'audizione dinanzi alla Commissione del Ministero che dovrà scegliere la capitale della cultura 2024. Antena Sud e l'intero gruppo editoriale distante e media partner di Mesagne 2024. Il grande giorno è arrivato. Giovedì 3 marzo alle 14.00 Mesagne presenterà il suo dossier alla Commissione del Ministero che dovrà scegliere la capitale italiana della cultura 2024. L'audizione si svolgerà in remoto e potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura. La Commissione, presieduta da Silvia Calandrelli, dovrà poi indicare al Ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea entro il 29 marzo al fine dell'attribuzione del titolo da parte del Consiglio dei Ministri. Dieci le finaliste sulle 24 inizialmente in corsa. Sindaco è iniziata come una sfida impossibile e strada facendo avete assunto una consapevolezza diversa, una consapevolezza della possibilità che Mesagne possa centrare davvero questo obiettivo. Assolutamente sì, domani avremo l'audizione con la Commissione nominata dal Ministero e andiamo convinti di poter offrire una proposta, un progetto di città capitale della cultura molto interessante e direi anche accattivante. Per cui abbiamo fiducia sul fatto che siamo tra i concorrenti più accreditati per essere disegnati capitale della cultura nel 2024. È stata una riscoperta anche non solo di Mesagne ma anche dei mesagnesi che hanno fornito un contributo decisivo per questo progetto? Il livello di partecipazione è stato impressionante, l'entusiasmo che noi abbiamo sentito al nostro fianco non ha precedenti. Tutti i cittadini mesagnesi ma anche l'intero territorio di questa provincia ha fatto sentire la propria vicinanza e in queste ultime settimane anche la Regione Puglia per cui tutti i pugliesi ci hanno detto che sperano in questo risultato che non riguarderà soltanto Mesagne ma l'intera Regione Puglia. Avete tirato fuori una carta sorpresa all'ultimo momento che è quella di questo corto che è realizzato da un regista premio Oscar, da un grandissimo attore. Quanto contate su questo corto per aggiudicarvi questa possibilità? Il nostro punto di forza è senza dubbio il progetto, il dossier che abbiamo presentato che è stato gestito in maniera eccellente dalla nostra direttrice di progetto da Simonetta dello Monaco e tutto il resto però ha anche la sua dignità e la sua importanza. Avere avuto l'onore di avere qui a Mesagne Paola Aghis che è uno dei registi più importanti del mondo in questo momento ha vinto diversi Oscar e evidentemente dà un valore aggiunto rispetto appunto a una rappresentazione della nostra città che poi è stata data in maniera straordinaria dal bravissimo nostro concittadino Sergio Rubini che generosamente ha voluto donare la sua arte a Messagne. Parliamo adesso della crisi del polo energetico di Brindisi. Per discuterne il sindaco Rossi ha convocato organizzazioni sindacali di categoria oltre a Confindustria ma adesso si va verso la richiesta di un tavolo al Mise per confrontarsi anche con Enel. Cristina del sito di Cerano e del polo energetico di Brindisi. Di questo e della crisi socio-economica che affligge il territorio si è parlato nel corso di un incontro che è stato convocato dal sindaco Riccardo Rossi a cui hanno partecipato tutte le sigle sindacali e le varie associazioni di categoria e Confindustria Brindisi. Prossimo passo proposto dal sindaco e condiviso da tutti è quello di dare vita ad un tavolo presso il Mise e dall'altra parte farsi spiegare da Enel definitivamente come intende proseguire a Cerano e soprattutto se intende farlo. Lo scopo dell'incontro è fare il punto della situazione in particolare con l'energetico quello che succederà a Cerano perché evidentemente la dismissione del 2025 e carbone il piano che era stato proposto da parte di Enel con in particolare verteva sulla turbogas con poi i pannelli fotovoltaici e accumulo ovviamente viene meno rispetto alla decisione di Terna di non ritenere indispensabile la turbogas con un'aperto l'asta del capacity market e la turbogas di Cerano. Ma la crisi del polo energetico Brindisino è irreversibile? Lo abbiamo chiesto al presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Lippolis. Quindi quella del polo energetico è una crisi irreversibile? No, quel polo energetico è una crisi dove si sarebbero dovute prendere sicuramente delle contromisure negli anni passati, questo non è stato fatto, oggi però noi non siamo per perdere le spide o considerarci già perdenti, assolutamente. Noi dobbiamo cercare in questo momento di accelerare, di cercare di attirare gli investitori, quelli più veloci, quelli che sono già pronti ad esempio con progetti approvati a poter investire su questo territorio. Si chiude qui il Tg di Brindisi, tra poco quello di Lecce, restate con noi, tra qualche istante torniamo in diretta.